Ci troviamo al Teatro Nuovo di Napoli che quest'anno compie i 300 anni dalla sua edificazione, quindi un anno importante e presentiamo una stagione che si avvarrà di tutte le arti, teatro, musica, danza e che sarà innovativa rispetto al panorama teatrale napoletano. Nuovo solo per il nome e per la freschezza della sua proposta artistica che anima il dibattito culturale in città, il Teatro Nuovo di Napoli diretto da Alfredo Balsamo pronto a spegnere 300 candeline ha presentato il cartellone della stagione 2023-2024. 16 spettacoli da novembre ad aprile prossimi tra prosa, musica, danza, stand-up, comedy con cui ancora una volta il palcoscenico dei quartieri spagnoli dimostra la volontà e la capacità di elaborare una programmazione di qualità. Sentiamo ancora dal direttore Balsamo qualche anticipazione sul cartellone. Tra gli altri avremo la Solarino, Fabrizio Gifuni, la Minaccioni, Montanari, insomma tante figure importanti tra cui anche la danza, Betrano Errandisi, insomma grande presenza del teatro italiano, questo sicuramente. Sono proprio questi i presupposti che ci stimano a lavorare tenacemente per la creazione di un'offerta culturale che vada in sintonia con il nostro pubblico. La prossima stagione del Teatro Nuovo approfondisce una molteplicità di linguaggi e proposte ospitando classici sovversivi, un ciclo di sei incontri su mito, epos e tragedia a cura di Valeria Parrella. Sentiamo. I classici sovversivi, una parola strana perché il classico fa pensare a qualcosa da cui dobbiamo togliere le ragnatele, il sovversivo invece è la rivoluzione. E' quello che io credo che noi viviamo quando andiamo a scoprire perché ci interessa ancora Antigone, perché Eros ci affascina tanto, perché il primo transessuale della storia è Tiresia e sarà la base della mia rubrica mensile per il Teatro Nuovo di Napoli.